da sole per il sanitario, per il palazzo, per tutti i lavori, adesso sono triste e mi chiede ma a mille, voglio dire, voi lasciate in base a delle caratteristiche di caratteristiche? no, io sono andato a 5 minuti cioè, voglio dire, per addestrare un cane non ci vogliono delle caratteristiche particolari o, che so, particolarmente docile, devono essere magari famiglie abbastanza docile per esempio io ne ho preparato un altro che purtroppo però aveva paura no, si spaventava, si spaventava e non lavorava per i bambini dobbiamo a che fare con i bambini, allora era meglio non portarla io ho preso alla volta a una alla volta però, vieni qua saluta, saluta, saluta saluta, saluta Jack saluta saluta saluta, 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 saluta saluta saluta, saluta 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 E' bello, non lo tocco! Toccacilo qui! No! Come si chiama? L'ha detto bravo! E' bello! E' un bier basso! E' un bier basso! E' un bier basso! Oh, scusa! Tu giù oggi porti con Sascha? Io porti sei qui! Sì, forse porti a nipo! Sì, forse porti a nipo! No, il mio padre non me lo fa portare! Saluta! Saluta! Bravo!